Ma il ruolo della salubrità e della durabilità in edilizia sono elementi fondamentali, prima di tutto per il benessere delle persone, quindi ne abbiamo bisogno sempre di più di città salubri, di luoghi confortevoli, piacevoli in cui vivere nelle diverse stagioni ambienti sicuri con il centro della salute e il benessere delle persone. La durabilità poi è fondamentale perché ci dà anche la qualità, ci dà anche l'eccellenza dello spazio sia negli ambienti esterni di una città o di una casa che negli ambienti interni, quindi la modalità di progettazione è fondamentale orientata a prodotti circolari, sostenibili, durabili, ma nello stesso tempo che abbiano la bellezza al centro, il comfort per le persone, in cui la nuova filosofia di città, di ambienti per l'essere umano deve mettere al centro la salute e la qualità di vita, in cui il materiale è molto molto importante per questo aspetto, attraverso il design, l'architettura e il progetto. Grazie